Gli alieni esistono e dobbiamo temerli. Parola di Stephen Hawking, celebre astrofisico britannico famoso per le sue tesi, spesso anticonformiste. Hawking sostiene alla sua teoria Nessun nuovo documentario tv sull'universo, nel quale parla apertamente della quasi certa esistenza di diverse razze aliene. Il discorso dell'astrofisico è strettamente matematico. In un universo in cui esistono 100 miliardi di galassie, ciascuna contenente centinaia di milioni di stelle, è quasi impossibile che solo sulla Terra si sia evoluta la vita. Hawking anche ha messo in guardia l'umanità dal possibile incontro con forme di vita intelligente, in quanto gli alieni potrebbero non solo contagiarci con virus da noi sconosciuti, ma anche tentare di colonizzare la Terra per sfruttarne le risorse. Oltre che un grande matematico e fisico, Hawking sembra essere anche un ottimo sceneggiatore.